salve a tutti continuiamo a parlare dello strano caso dell'elettrone nel video precedente abbiamo visto il modello di Bohr il modello atomico di Bohr non riuscì a dare una spiegazione quantitativa agli spettri degli atomi contenenti più di un elettrone abbiamo visto che il modello di Bohr funziona bene solo nei casi in cui sia presente un solo elettrone questo perché la base di partenza era la fisica classica nel 1924 Louis de Broglie perdonate la pronuncia affermò che a ogni corpo in movimento è associata un'onda di materia con una propria lunghezza d'onda pertanto gli elettroni all'interno degli atomi non si comportano solo come particelle ma anche come onde e di questa cosa avevo già accennato nel primo video dedicato alla doppia natura della luce ma se la materia è anche un'onda perché noi esseri viventi non ondeggiamo diciamo così e il fatto è che per corpi macroscopici grandi la lunghezza d'onda è così piccola che le proprietà dell'onda passano inosservate e non possono essere misurate cosa ben diversa ovviamente per particelle come gli elettroni ora consideriamo un fotone e utilizziamo due relazioni che abbiamo già incontrato relativamente all'energia al primo membro di entrambe abbiamo l'energia perciò visto che i primi membri sono uguali uguagliamo i secondi membri e otteniamo questa relazione divido ambo i membri per c ottenendo m per c uguale h su lambda ricavo lambda da questa formula formula inversa quindi lambda passa sopra m per c passa sotto per dirlo in modo sbrigativo perciò lambda uguale h fratto m c il prodotto di massa per velocità fornisce la cosiddetta quantità di moto del fotone in generale il prodotto massa per velocità fornisce la grandezza definita quantità di moto qui abbiamo la velocità c del fotone m per c rappresenta la quantità di moto del fotone pertanto a ciascun fotone si può associare una quantità di moto come a una normale particella di materia e il valore della quantità di moto dipende dalla lunghezza d'onda dell'onda elettromagnetica con cui si propaga la relazione collega le proprietà corpuscolari dei fotoni alle proprietà ondulatorie abbiamo usato la relazione di einstein introducendo la massa perché i fotoni sono privi di massa e quindi non dovrebbero avere quantità di moto un fotone però in quanto dotato di energia deve essere considerato una manifestazione della massa e può quindi trasmettere la sua energia a un'altra particella le onde associate all'elettrone e a qualsiasi corpo in movimento sono chiamate onde di de broil oppure onde di materia ora l'elettrone è sia particella sia onda allora dovrebbe essere semplice studiarlo cioè abbiamo più strumenti quelli per le particelle quelli per le onde in realtà non è così nel 1927 werner heisenberg dimostrò che è impossibile conoscere con precisione contemporaneamente la posizione e la velocità o per meglio dire la quantità di moto di una particella questo va sotto il nome di principio di indeterminazione di heisenberg infatti se proviamo a misurare posizione e velocità di un elettrone dobbiamo ad esempio colpirlo con un fotone e questo va ad alterare la misura matematicamente possiamo esprimere il principio di indeterminazione con questa formula dove delta x è l'incertezza sulla posizione della particella h è la costante di plank m è la massa della particella e delta v l'incertezza sulla velocità della particella questo principio non vale per oggetti di grande dimensione possiamo enunciarlo in questo modo la precisione con cui si può misurare la posizione di una particella in un dato istante è inversamente proporzionale alla precisione con cui si può misurare contemporaneamente la sua quantità di moto vi faccio notare che m per v è la quantità di moto quindi qui abbiamo l'incertezza sulla quantità di moto possiamo anche riscrivere la formula mettendo in evidenza posizione e quantità di moto alla luce di quanto abbiamo visto ha ancora senso parlare di orbite per gli elettroni l'orbita è un percorso ben definito che l'elettrone dovrebbe seguire durante i suoi spostamenti l'esistenza di un'orbita infatti comporta la possibilità di determinare con sicurezza la posizione occupata dall'elettrone dopo un certo tempo se si conosce la velocità con cui esso si sposta sappiamo benissimo che per quanto riguarda le orbite dei pianeti possiamo determinare dove si troverà un pianeta in un certo istante di tempo conoscendo appunto la sua velocità ma in questo caso non potendo conoscere contemporaneamente la velocità e la posizione dell'elettrone allora non possiamo più parlare di orbite dovremo introdurre un concetto diverso legato alla probabilità che l'elettrone si trovi in una determinata regione di spazio quando un elettrone si muove in un atomo non è totalmente libero di muoversi perché il nucleo è carico positivamente l'elettrone è carico negativamente perciò la trazione del nucleo vincola l'elettrone entro certi limiti l'onda associata all'elettrone è così un'onda stazionaria in una playlist di fisica ho realizzato dei video sulle onde stazionarie ti lascio qui il link al primo video sulle onde stazionarie per sintetizzare un esempio di onda stazionaria è quella che si produce pizzicando una corda di chitarra l'onda associata a un elettrone è più complessa di una onda associata a una corda non oscilla in una sola direzione ma in tutte le dimensioni così come l'energia però la lunghezza d'onda dell'elettrone non può assumere qualunque valore ma solo alcuni valori abbiamo definito questo comportamento quantizzazione la lunghezza d'onda dell'elettrone è quantizzata ed è questo che determina la quantizzazione dell'energia di un elettrone nel 1926 erwin schrodinger propose l'equazione d'onda un'equazione che ha come soluzioni anziché dei numeri delle funzioni chiamate funzioni d'onda non andremo a vedere nel dettaglio l'equazione d'onda diciamo che una funzione d'onda è indicata con la lettera greca psi e che informazioni fornisce l'equazione d'onda è complicata quello che possiamo dire qui è che il quadrato della funzione d'onda si al quadrato questa è la lettera psi fornisce la probabilità che un elettrone si trovi durante l'intervallo di tempo delta t in un volume delta v il cui centro ha coordinate le tre coordinate spaziali x y e z se psi al quadrato è grande la probabilità di trovare l'elettrone è elevata e naturalmente se psi al quadrato è piccolo l'elettrone si trova raramente in quella regione possiamo dire che allontanandosi dal nucleo la probabilità diminuisce intanto se non avete fatto una iscrizione al canale non costa nulla inoltre vi chiedo di lasciare un like e di condividere l'esistenza del canale spero che questo video vi sia stato utile io vi ringrazio e vi dico alla prossima ciao